Buonasera a tutti, sono l'avvocato Giuseppe Palma, alcuni di voi già mi conoscono per la mia incessante attività divulgativa. Io molto brevemente illustrerò quello che è il contesto giuridico e quello che è il rapporto tra i trattati europei e la nostra Costituzione per poi concludere per quelle che possono essere sommariamente le soluzioni. Partiamo da un elemento che può essere addirittura scolastico se non antipatico, ma che ritengo fondamentale per quello che andrò a dire alla fine della slide. Io avrei iniziato in questo modo, quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Perché se non partiamo da questo presupposto non potremo comprendere quello che è successo. Popolo, territorio, potere ed imperio, cioè la sovranità. Perché sono partito da questo presupposto? Perché il potere ed imperio, la sovranità, è quella forza insida nello Stato, irrinunciabile per lo Stato, al fine di poter imporre coattivamente la sua volontà. Senza l'imperium, cioè senza la sovranità, è impossibile per uno Stato essere Stato. Tant'è che in assenza anche di uno solo di questi elementi, lo Stato non esiste. Ci ritornerà utile tra un po'. Andiamo subito al nocciolo della questione. L'Italia, pur essendo ancora uno Stato sovrano, ha già provveduto a cedere illegittimamente proprie quote di sovranità. Perché? E la risposta è nell'articolo 11 della Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione parla di limitazioni della sovranità nazionale, cioè l'Italia consente limitazioni della sovranità nazionale, solo a condizione di garantire, cioè in favore di organismi internazionali, che avessero le finalità di garantire pace e giustizia fra le nazioni. A chi si riferiva l'Assemblea Costituente quando parla di limitazioni di sovranità? Si riferisce esclusivamente all'ONU. Nulla senza l'Unione Europea, nulla senza la Comunità Europea. Non sono io Giuseppe Palma a dirlo. Chi lo dice? Lo dicono i lavori dell'Assemblea Costituente. Lo dicono i lavori dell'Assemblea Costituente. Chi lo dice? Il presidente della sottocommissione Ruini mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Lussu. L'onorevole Lussu cosa dice? Dice dai cediamo anche in favore della Comunità Europea, che ancora non è nata ma c'è l'idea di Europa. Viene messa ai voti questa mozione. Signori, l'Assemblea Costituente boccia questa mozione, quindi lo sapevano cosa stavano facendo. E solo le limitazioni di sovranità, e non cessione, attenzione, limitazioni di sovranità, sono solo in favore dell'ONU perché uscivamo da due guerre mondiali disastrose e quindi per evitare che si sparasse un colpo di cannone hanno deciso di limitare la sovranità solo nei confronti dell'ONU, no nei confronti della Comunità Europea. Questo lo dice l'Assemblea Costituente. Andiamo avanti. No, no, andiamo avanti con il punto, non con la slide. Nella froga. Ok. L'estensione interpretativa delle limitazioni di sovranità nazionale in favore di ulteriori organismo, quale ad esempio la Comunità Unione Europea, fu respinta dall'Assemblea, questo l'ho detto. Ecco qui c'è un punto sul quale io e il collega Marco Mori abbiamo pubblicato un paper scientifico, su una rivista scientifica, abbiamo dimostrato in maniera tecnica che gli Stati Uniti d'Europa non possono esistere, non sono contemplati, non è una limitazione di sovranità contemplata dalla nostra Costituzione. Chi parla di Stati Uniti d'Europa? Cioè deve rendersi conto di un fatto che, avendo previsto la nostra Costituzione, l'immodificabilità della forma repubblicana, intesa nella sua più vasta eccezione, perché la forma repubblicana non è solo la forma di Stato opposta alla monarchia, quello è un concetto chiaramente molto limitato. La forma repubblicana che cos'è? È lo Stato. Che cos'è la Repubblica? La Repubblica è lo Stato, quindi gli elementi costitutivi di cui vi parlavo prima rendono impossibile la costruzione degli Stati Uniti d'Europa. Per quale motivo la Costituente pone l'immodificabilità della forma repubblicana se poi dopo 70 anni andiamo a parlare di creazione degli Stati Uniti d'Europa? È inesistente. Questo è sempre il mio modesto parere. Grazie con l'altra slide. Il riscatto della sovranità economica e monetaria e il ritorno alla situazione pregressa al divorzio tesoro Banca d'Italia avvenuta nell'81 che dieci anni dopo, per stessa ammissione di Andrea Atta, cosa succede? La Banca d'Italia, che quindi è banca centrale, smette di fare da prestatrice di ultima istanza sui titoli collocati dal tesoro. Ecco perché poi ci siamo trovati negli anni Ottanta in quella situazione. Quindi questo è un primo punto. Secondo punto, e qui il Presidente Baracaraccio lo sicuramente fa da maestro, i principi fondamentali e i diritti inalienabili, come stabilito dalla Corte Costituzionale con due sentenze, una del 2014 e un'altra del 2007, fanno da diga, da barriera all'ingresso delle norme non solo del diritto internazionale, ma anche del diritto europeo. Quindi le norme di diritto europeo che parlano di pareggio di bilancio devono fare i conti con l'articolo 1 della Costituzione, con i principi indelogabili della Costituzione primigenia. E' questo che va chiarito. Secondo punto, dal trattato di Maastricht 1992, al trattato di Lisbona 2007, l'Italia ha acriticamente, sottolineo acriticamente, accettato prima l'imposizione che parlava prima Antonio della regola capestro del 3% nel rapporto deficit-pil, quindi il primo vincolo, che poi successivamente, come ha scritto più volte il professor Guarino, non si può più parlare di 3%, perché con il fiscal compact siamo allo 0,5%, per cui basta spesa a deficit, questo dice il fiscal compact, non potremo più spendere a deficit. e vorrei proprio vedere quale soluzione troveranno i governi senza poter più spendere a deficit. Quindi abbiamo parlato della regola capestro del 3%, fiscal compact poi nel 2012, e qui arriviamo poi all'apoteosi che è il pareggio di bilancio inserito in Costituzione. Cosa succede? Mentre i principi fondamentali, cioè quelli rubricati dall'articolo 1 all'articolo 12 della Costituzione, e tutta la parte prima, non possono essere modificati, la parte prima solo in mellus, cosa succede? Col principio di pareggio di bilancio, quindi modificando la parte seconda della Costituzione, questi hanno annientato l'articolo 1 della Costituzione, hanno annientato il principio del lavoro, hanno ucciso l'articolo 1, l'articolo 4 e gli articoli 35 e 40 della Costituzione. Quindi seppur da un punto di vista formale hanno rispettato la procedura del 138, da un punto di vista sostanziale hanno massacrato la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Quindi articoli 1, 4 e 35 seguenti della Costituzione che non potevano essere modificati. Questo ha fatto il Parlamento e questo va detto. E mi avvio a conclusione. Mentre Lisbona, all'articolo 50 del testo unico dopo la riforma, prevede la possibilità di recedere dall'Unione senza che ricorrono particolari motivi, cioè senza che venga motivato, se non nel mero rispetto delle regole costituzionali, non contempla espressamente la possibilità di recedere dall'Unione monetaria. Però a questo punto vorrei fare una piccola precisazione. Gli articoli 139 e 140 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi sempre dopo Lisbona, cosa prevedono? Mentre il 139 fa la differenza tra Stato la cui moneta è l'euro e Stati in deroga, cioè appartenenti all'Unione ma senza l'euro, bisogna capire questo concetto fondamentale. L'aver aderito all'euro era una manifestazione del consenso, della volontà che chiaramente ti avrebbe portato, secondo quelle che erano le interpretazioni di chi ha scritto il trattato, ad una condizione migliorativa. Per cui è impossibile pensare che chi ha manifestato il consenso non possa recedere nello stesso consenso. Il consenso, così come è stato manifestato, è ovvio che può anche essere revocato. Per cui nel momento in cui si revoca il consenso, è chiaro che si può tornare a una situazione di Stato la cui moneta è l'euro ha stato in deroga. Io spero di essere stato particolarmente chiaro, forse qualche cosa l'ho affrontata in modo non molto chiaro perché il tempo stringe, però mi auguro di aver reso l'idea di quello che volessi dire. Adesso per quanto riguarda la successiva slide sulla Lex Monete, penso che ci sia l'Avvocato Pecchioli che può affrontarlo. Grazie a tutti. Allora, salve, io sono Luigi Pecchioli, iniziamo a parlare un pochino più operativamente, adesso abbiamo visto l'introduzione, e cominciamo a vedere qualche problematica che avverrebbe con l'uscita dall'euro. E soprattutto parliamo di Lex Monete perché sembra, a sentire quello che dice il governo e gli esponenti a maggioranza, che è abbastanza sconosciuta in Italia. Per cui cerchiamo di capire che cos'è. La Lex Monete è un gruppo di norme che sono nel Codice Civile, le quali prevedono come si deve fare per pagare dei debiti, delle obbligazioni pecuniarie nel momento in cui una moneta esce dallo Stato, diciamo, dalla circolazione, non è più in circolazione nello Stato. Le due possibilità principali sono quella prevista dall'articolo 1277, cioè che la moneta che prima era corrente nello Stato sparisce, quindi nel caso dell'euro, per esempio, con l'uscita dell'Italia si disgrega e non c'è più l'euro e quello è il caso più semplice perché si ha una conversione che noi naturalmente auspichiamo una conversione uno a uno per ragioni chiaramente di semplicità nella conversione, quindi passare da un euro a una nuova lira o quello che è la moneta in maniera anche di evitare quell'inflazione che c'è stata per l'arrotondamento che si è attuato per esempio con il passaggio da lira all'euro. E non ci sono problemi perché non c'è più l'euro quindi si paga chiaramente solo con la nuova moneta. Qualche problema sorge invece con la previsione dell'articolo 1278 dove invece si prevede che la vecchia moneta sparisce, diciamo, dal contesto interno ma rimane come moneta da altre parti e diventa una moneta estera. Come nell'euro, se noi uscissimo nell'euro e l'euro rimane, chiaramente noi dobbiamo avere a che fare ancora con una moneta che esiste. Allora che cosa succede? L'articolo 1278 dice che spetta al debitore la facoltà di poter scegliere di pagare con la nuova moneta e il creditore non si può opporre a questo però dice deve essere valutata se la scadenza è successiva al momento del cambio, del concambio è valutata al momento in cui scade il pagamento il che significa che se per esempio la nuova lira si svalutasse cosa molto probabile secondo l'articolo 178 il pagamento successivo dovrebbe essere fatto con la quotazione al momento voi capite che questo potrebbe portare a un aggravamento del costo del debito perché mi trovo a dover pagare con più lire per un euro perché la lira si è svalutata. Questa cosa però è superabile questo problema che viene posto spesso dicendo ma così avremmo delle difficoltà peggioriamo il nostro rapporto debitorio questo discorso è superabile perché essendo una norma contenuta nel codice civile può essere tranquillamente derogata da un'altra legge che noi aspichiamo debba essere fatta con decreto legge da un qualunque governo decida di uscire dall'euro è un decreto legge semplicissimo il quale dica tutti i debiti di valuta cioè quelli dove la legge non prevede la rivalutazione quindi i debiti normali monetari dove io devo una certa somma vanno pagati naturalmente che sono sorti prima del concambio vanno pagati se scadono successivamente con il valore del concambio cioè si elimina questo problema del rapporto con il valore al momento della scadenza cosa assolutamente fattibile questo salva naturalmente tutta la situazione e permette di pagare diciamo quello che è il valore facciale dell'obbligazione che cosa succede adesso vediamo semplicemente per quanto riguarda il debito pubblico poi vedremo per discorsi privati più in là però faremo altri discorsi il debito pubblico il debito pubblico ha lo stesso discorso cioè con la Lex Monete si converte il debito pubblico automaticamente tutta l'emissione in legislazione nazionale perché stiamo parlando di legislazione nazionale si converte nella nuova valuta siccome il debito pubblico in legislazione nazionale è il 96% attualmente abbiamo che il 96% del debito diventa l'obbligazione da euro in nuova lira e con questa deroga i pagamenti successivi quindi le scadenze dei vari titoli o le scedole queste cose qui vengono pagate al valore nominale facciale e non rivalutati che cosa succede agli investitori l'investitore italiano diciamo che non perde quasi nulla perché l'investitore italiano si trova che tutti i rapporti interni sono stati rimodificati in lire quindi diciamo che i valori e i rapporti di valore sono rimasti identici quindi quello che al massimo può scontare è un po' di inflazione che si può creare e lo vedremo però fondamentalmente ha degli interessi e quindi questa inflazione viene in parte coperta di interessi ma non perde molto l'investitore straniero invece sconta effettivamente anche la svalutazione che potrebbe avere una nuova moneta e questa svalutazione però è stata compensata dal fatto che i titoli italiani rendevano di più per esempio dei bun tedeschi proprio perché c'era un rischio paese che veniva pagato quindi fondamentalmente diciamo che ci hanno guadagnato prima possono anche perderci qualcosa dopo naturalmente perché questo possa accadere bisogna che il debito rimanga sotto legislazione nazionale cioè quindi assolutamente no agli euro bond e no all'ERF dove dovremmo conferire una parte del debito per emissioni internazionali proprio perché sottraendo la legislazione nazionale nel momento in cui noi uscissimo dall'euro avremmo il problema che non possiamo utilizzare l'ex monete e ci dovremmo pagare il debito in euro sempre in euro grazie buongiorno a tutti mi chiamo Luca Mussati sono ingegnere normalmente gli ingegneri recuperano i ritardi di quelli che sono venuti prima quindi farò una cosa un po' più sintetica dunque entriamo nell'operatività del piano B entriamo nell'operatività del piano B e cioè la gestione della decisione e in particolare l'aspetto della riservatezza i rischi di diffusione anticipata di un'eventuale decisione di uscire dall'euro sono elencati lì cioè fuga di capitali calo delle borse eccetera abbiamo dei casi storici di break up e cioè la cecoslovacchia quando si divise tra Repubblica Ceca e Slovacchia e l'Unione Sovietica in sostanza il messaggio di questo slide è mantenere la riservatezza fino all'ultimo in modo da evitare gli effetti avversi elencati nel primo punto slide prossima quindi le raccomandazioni per quanto riguarda la comunicazione del piano B sono avere una task force che lavori in riservatezza diciamo pure in segretezza nella prima parte ritardare il più possibile la comunicazione e gestire con un piano adeguato gli effetti della divulgazione della notizia quindi controllo dei capitali e quant'altro abbiamo una foto lì non sono gli ultimi due presidenti del consiglio italiani poco ci manca ecco sono sintetico anche perché il piano B verrà pubblicato sul sito di scenari economici quindi nei dettagli tecnici un po' più noiosi tra virgolette potrete andarli a leggere con comodo sul nostro sito grazie